Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico, scusate l'aspetto trasandato però adesso sto facendo le prove con il Fury B Futon 200 e non vedevo l'ora di farvi vedere un assaggio di questo magnifico quadricottero, devo dire che questo è il quadricottero che vola meglio tra tutti i quadricotteri che ho mai pilotato BNF o Ready to Fly, in realtà non è Ready to Fly perché non ha anche la radio, se avete intenzione di acquistare un quadricottero in questo momento questo è quello giusto. Adesso vi lascio con il video del volo che ho fatto durante la configurazione dei PID. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.